Giunto a Roma alla fine del 1508, probabilmente su suggerimento di Bramante, Raffaello viene chiamato alla corte pontificia da Giulio II, divenuto papa nel 1503 e impegnato in un grandioso progetto di rinascita di Roma secondo i modelli della classicità. Mentre Bramante si dedica alla ricostruzione della Basilica di San Pietro, il papa affida a Raffaello il compito di affrescare le quattro stanze dell'appartamento che Giulio II decide di abitare. I lavori iniziano con la stanza della segnatura e procedono con la stanza di Eliodoro, destinata alle udienze. Raffaello progetta quattro episodi legati dal tema dell'intervento di Dio a favore del suo popolo e della chiesa. Vediamo così su un lato la scena della cacciata di Eliodoro dal tempio. L'episodio, narrato nell'Antico Testamento, vede Eliodoro incaricato di profanare il tempio di Gerusalemme, travolto da un cavaliere inviato da Dio. I musei civici conservano una stampa di Domenico Bonatti che riproduce l'intera scena con una tecnica lineare molto in voga nell'Ottocento. Nella stessa stanza Raffaello dipinge la miracolosa liberazione di San Pietro dal carcere grazie all'intervento di un angelo. A differenza dell'incisione precedente, questa splendida acquaforte di Albert Henry Payne del 1882, riproduce in maniera efficace il gioco di luci e ombre che Raffaello riuscì a rendere nell'affresco. Giulio II commissiona a Bramante anche la realizzazione delle logge, una sorta di gallerie aperte su più livelli. Il Papa chiese a Raffaello e alla sua bottega di decorare gli ambienti. Il pittore vi lavora negli ultimi anni di vita sotto il pontificato di Leone X, facendo affidamento sui suoi validi collaboratori. Per la loggia al secondo piano Raffaello immagina una serie di specchiature con storie bibliche. Troviamo così episodi legati alla creazione, come la creazione degli animali qui riprodotta dal fiorentino Cesare Fantetti a metà 600, o la costruzione dell'arca di Noè, incisa nella prima metà dell'Ottocento dal Veneto Francesco Ambrosi. Da ultimo ammiriamo l'affresco che narra il trasporto dell'arca dell'alleanza durante l'esodo dall'Egitto. Nel 1675 a Roma l'editore Giovanni Giacomo De Rossi, titolare di una famosa bottega, pubblica una splendida serie di incisioni nota come la Bibbia di Raffaello, chiamando a lavorare i migliori incisori del momento, tra i quali il siciliano Pietro Aquila, autore della riproduzione della scena biblica come mostrano le firme in calce al riquadro. Grazie. 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 Grazie.